Cambiamo di nuovo argomento, un importante progetto che punta alla sistemazione del borgo di Malpaga. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Nianferri. Pubblico e privato al lavoro insieme per il recupero e il rilancio dell'antico borgo di Malpaga. È stata approvata in queste ore la proposta relativa all'attuazione del programma integrato di intervento denominato Borgo di Malpaga, che la società proprietaria del 98% degli immobili presenti nella frazione medievale ha sottoposto all'amministrazione. Proposta che il Consiglio Comunale ha approvato e che contiene di fatto un pacchetto di opere dall'ammontare di 400.000 euro che riguardano la riqualificazione di alcune parti di territorio assieme alla realizzazione di nuovi parcheggi che in futuro potranno rendere Malpaga ancor più attrattiva. In questi anni abbiamo dialogato con la proprietà di questo meraviglioso borgo con l'obiettivo di cercare di mantenere fermi gli obiettivi e gli impegni che la società aveva sottoscritto già dal 2009. Partiamo da delle asfaltature, rifarcimento del fondo delle piste ciclopedonali che poi verranno cedute al Comune. Dopodiché, progetto sicuramente più importante, la realizzazione di un nuovo tratto di ciclabile che dalla strada di Sant'Antonio porta al Borgo di Malpaga e un parcheggio. Un parcheggio essenziale per consentire ai numerosi visitatori, soprattutto durante la rievocazione storica, di raggiungere il borgo in piena sicurezza e di poterlo vivere nei momenti in cui torna ai momenti della vita di Bartolomeo Colleoni. Tra gli impegni assunti e messi nero su bianco dalla società Malpaga S.P.A. anche quello di rendere ancora più accessibile il castello a cittadini e studenti. È giusto che anche le persone che vivono all'ombra di questo importante edificio possano goderlo, conoscerlo e sperimentarlo. Una convenzione che peraltro prevede anche uno spazio a favore dell'associazione Malus Pagus, che è un'associazione importantissima che negli anni ha messo in atto le rievocazioni storiche.